www.mesmerism.info 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 No, 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 no! Che fatti, Mario? Nicolo! C'è l'inglantiera 29. Tranquilo, signorano. Mi casa è qui, non ti resta così. Mario, no. Io ti avrei divulgato, Mario, tu cosa è successo. Mi racionario, mi racionario! Mi sali con un voto a me assassina! Nicolo! Buon un votino e poi a cantar! Mi risponcio, no? Mi racionario, non? Mi racionario sono 10 mil di acqua, e poi dicono 15 minuti che di pagare a me. Certo! A vera che ha lasciato un po' a di casa! E noi ci sono un tasso lì per la mia madre! C'è me sotto, mio amore, hanno una nuova scontola per la mia madre. C'è me sotto, mio amore... Non è Mestre Jaime! Parti da Roma. Eh, Vado, sai cosa che mi piace? Ma... Ma come sono, fischi, ti chiedo benzei o che? Vado, stai cantando, per me sai alla sala, Vado? Si? Eh, è in talono! No, 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 mi ti pensavo di corazzon. Ma mi arrivo a casa ma rima naki... ...e non ti tirano le flore... ...na bobia e ti arrangi. E voi te grita? Grava a show! Che è che il choferio per me e nalga! Ehi, Vado! È, 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 è... No, 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 no... Polizia non pavano, Vado. Polizia non pavano. Sì, tata, ma passa bene, tata, per dimmi, per sobra, tata di, tata di un coso urgente di conversare con me, quindi mi diranno, passa bene, sopra, perché è un'urgenza da. Tata, però, prima cosa, mi ha ascoltato un coso di notizia che non è qui, però non vorrei, per fare un matato. Mi ha mandato un chiamato, no, per lo seguente. Sì, no? Sì, tata. Lo sai che tutti i anni non ho cominciato il servizio policiale, e in casa non ho cominciato, ma non ho risoluzionato. Sì, non ho un altro numero, tanto, è parte principale di èxito che non ho informato, no, sai? Sì, tata, mi sembra. Sì, non ho bisogno di non, ma non ho risoluzione. Non c'erano che tu vai. Vai amato con sopra l'occhio, abri la polizia. Mentre vai andare un paritero. Non c'erano sempre. Ma hai un'amata tocando un asesinato con te. Anche lui. Cos'nano è venuto morto da casa. Cos'nano detenere un personaggio con te. Però la persona che possa detenere non sente culpabile. Non. Non. E se senti un'amata è difficile. Non ti sono un po' primavera. E ora mi volevo andare a guardare un modo. Io stai senti un'amata è un'amata che fa un'amata che. E non si veni. Il mio amata che ti vai andare a guardare le nostre un'amata che. Voi cammini al metro per andare? Sempre. E' convivata. Sì, sì, sì. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Tornio! 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 Non, 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 non. No, non, 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 non. No! È il ragazzo! Hey, mamma. Vam! 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 Grazie a tutti.